Ciao, sono Gustavo De Donno e sono l'IT controller del Baio di Gallipoli Camping Village a Gallipoli. Il Baio di Gallipoli è un Camping Village, possiamo definirlo anche un Family Village, nel passare del tempo abbiamo fatto un'evoluzione verso il Family Village. È una struttura abbastanza grande, abbiamo sia la parte campeggio che la parte villaggio, con nuove ristrutturazioni che sono state fatte negli ultimi anni. La nostra stagionalità va da maggio fino a settembre. Un campeggio che si trova sul litorale da Gallipoli verso Santa Maria di Leuca, precisamente di fronte alla Suina, una delle spiagge più conosciute nel Salento. Abbiamo scelto Titanca, il primo arrivato nella famiglia del Baio di Gallipoli è stato il nostro collega virtuale, il nostro Mr. Preno. Ricordo ancora la prima che mi ha risposto in Titanca, si chiamava Lorenza. Da lì abbiamo conosciuto Mr. Preno. Da Mr. Preno è nato il matrimonio con Titanca, quindi con il CRM. Se lo vogliamo definire CRM, ma secondo me è molto più di un CRM. Da lì tutto un matrimonio in successiva, con le mie ricerche che faccio sul web per i competitor, vedevo delle cose strane, fatte in maniera molto professionale. Da lì è continuato il matrimonio con Titanca. Questo nuovo matrimonio si chiama Performance Hub, che continua ancora. Il perché indosso questa maglietta? È un nuovo progetto nell'Hub Performance, il rebranding del nostro logo. Hanno completamente rifatto il logo del Baio di Gallipoli. Con oggi anche il regalo di questa fantastica maglietta. Quindi un nuovo logo, una nuova immagine e una continuazione di matrimonio che spero che non finirà mai con Titanca. E un'altra cosa che ci tengo a dire è che Titanca fornisce dei dati e non delle opinioni. E un'altra cosa che ci tengo a dire è che Titanca fornisce dei dati e 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 dei dati.